Potersi fare una doccia calda, radersi, mettersi abiti puliti, sembra una cosa scontata, ma per alcuni di noi questo non è sempre possibile. In una società che non fa sconti a nessuno, alle volte il baratro delle marginazioni sociale è molto più vicino di quello che pensiamo. Basta frequentare la mensa di San Paterniano in un giorno qualsiasi per rendersene conto. Le cause? La perdita del lavoro, una separazione dal coniuge e non riuscire a pagare più l'affitto di casa, le utenze, non avere più una dimora e non potersi cambiare gli abiti diventa la realtà e non più un film hollywoodiano. L'iniziativa è nata in maniera estemporanea e del tutto naturale, semplicemente è nata con una mail che ci ha inviato il consigliere regionale Mirko Carloni alla nostra casella di posta elettronica istituzionale chiedendoci un incontro per sapere le nostre attività, per conoscere il nostro lavoro. Durante questo incontro noi abbiamo rappresentato l'esigenza di ripristinare il servizio docce che abbiamo dovuto interrompere a causa della vetustà dei nostri impianti termoidraulici. Noi abbiamo presentato un progetto, il consigliere Mirko Carloni ha sostenuto e ha creduto in questo progetto e quindi oggi possiamo festeggiare il primo contributo da parte della regione diretto all'associazione San Paterniano per il ripristino docce e servizio barberia. Oltre alla nostra vita il rischio è quello di perdere la considerazione di se stessi, la dignità, il sentirsi ancora parte della società e da allora risalire la china diventa ancora più difficile. Ci sono molte persone, i cittadini fanesi che in questo momento sono in grandi difficoltà e magari per un momento, per un periodo rischiano di cadere nella povertà e se non c'è oltre al cibo anche un aiuto per non perdere la dignità il rischio di imbarbarimento, di allontanamento sociale, di disadattamento sociale è molto alto. Quindi questo progetto cosa fa? Permette che oltre al cibo una persona possa lavarsi, farsi la barba e uscire dall'Opera San Paterniano, dall'Opera Padre Pio anche recuperando un po' la sua dignità di persona, magari trovando anche l'opportunità di lavoro, magari evitando che si debba vergognare appunto perché non ha la possibilità di lavarsi. Quindi io credo che questo progetto che l'Opera Padre Pio ha presentato è molto interessante, Rispecchia rappresenta un'esigenza nuova e secondo me in questo momento è giusto aiutare e fare ogni sforzo perché chi in un momento della vita vive una difficoltà non cada nel rischio di essere marginato e non trovi qualcuno che gli dà una mano non solo a sfamarlo ma anche a recuperare subito quella dignità che serve per poter vivere il contesto sociale.